Sono i cambiamenti degli autobus, delle linee dell'Ataf. Ci sono due linee nuove, poi ci sono quelle che cambiano percorso e poi ci sono una linea soppressa che è il 22 perché ci sarà il 14 che arriva un attimino più vicino alla fermata della T2 e poi ci sono quelle che rimangono praticamente invariate. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.